Tanti sapori a febbraio su Gambero Rosso Channel. Sapori giovani ed estroversi, come quelli di Nudo e Crudo, con Simone Ruggiati, alla scoperta dei suoi luoghi gastronomici del cuore. Sapori tannici di gran struttura, come quelli di Vini d'Italia, il nuovo programma del vino con Marco Sabellico. Sapori rotondi, come quelli di Nigella Express, con una sempre bellissima Nigella Lawson. Sapori di competizione vera, con La Scuola, Cucina di Classe, la seconda edizione dell'unico talent show gastronomico italiano. A febbraio, tanti sapori. A voi la scelta, su Gambero Rosso Channel. A presto.